Uno dei successi di cui va fiera è quello di essere riuscita ad imporre una certa percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle grandi aziende. Lella Golfo, calabrese impegnata da sempre a favore dei diritti delle donne, è stata ospitata nel ridotto del Teatro Rendano per la presentazione del suo libro Ad alta quota, storia di una donna libera, in cui si racconta con schiettezza e orgoglio la prefazione del volume e di Antonio Catricalà. La mia vita, credo che è una vita simile a tutte le donne, insomma, un po' più o meno, forse un po' più con avventure, più con impegno, ma insomma credo che non c'è niente di speciale rispetto alle donne di questa terra. La mia vita è stata una corsa, questo sì, un impegno continuo, battaglie varie, impegno politico, impegno ideale, ma soprattutto con le donne nel cuore. Cioè le mie prime battaglie sono state nei confronti delle donne raccoglitrici di olive, delle donne che raccoglievano il gersomino nella zona ionica e là è stata forse la mia presa di coscienza vera nei confronti di queste donne sfruttate. Allora, come ancora purtroppo, accade, non in quelle condizioni, ma insomma oggi forse la battaglia si sposta, dobbiamo parlare di occupazione, di disoccupazione e di lavori giovani. Lella Golfo è l'esempio di come la caparbietà e l'impegno possano produrre davvero esperienze di vita ad alta quota. Un messaggio alle donne e ai giovani soprattutto di non fermarsi mai perché gli ostacoli nella vita sono tanti, per cui bisogna sempre darsi degli obiettivi, lavorare per superarli, studiare soprattutto e capire che se io ce l'ho fatta, che ero una donna che vengo veramente dalla famiglia normalissima, ce la possono fare tutte. Per cui ci vuole coraggio, determinazione e avere proprio degli obiettivi davanti.